un tratto peculiare di un sistema del genere era quello di fare leva incessantemente sul lato più malvagio dell'individuo e in questo rientrava anche la calunnia ai danni del proprio vicino leggendo gli atti sembra di essere nel medioevo o durante l'inquisizione la delazione era incoraggiata e questo faceva sì che anche in una lite personale tra vicini di casa bastava che uno dei due denunciasse l'altro per fargli passare dei guai seri se non peggio